Sarà il crepuscolo a illuminare il concerto di Ludovico Inaudi su una pedana galleggiante. Oggi alle 18 è l'evento più atteso dell'estate, il concerto di Abruzzo dal vivo sul lago di Campotosto dopo il concerto esperienza di Bollani dell'anno scorso nella stessa forma che ha cambiato la percezione di quel luogo. Sono previste mille persone che assisteranno al concerto dei Inaudi inserito nel suo Summer Tour unica data in Abruzzo, già sold out dopo pochi giorni dall'apertura della biglietteria. Sarà un'esperienza entusiasmante, il posto è eccezionale e l'artista è tra i più quotati al mondo. Quindi noi siamo in fervi d'attesa e come noi tutta la gente che è riuscita ad accaparrarsi questo biglietto proprio ha dato sold out il concerto dopo pochi giorni dall'apertura della biglietteria tanti avrebbero voluto acquistarlo purtroppo quest'anno come l'anno scorso il Covid limita il numero degli spettatori che possono assistere a questi eventi così particolari perché poi non è solo la musica ma è la musica unita a questi paesaggi mozzafiato e un'atmosfera magica che ancora oggi ci fa ricordare il concerto dei Bollani dell'anno scorso che ha avuto così tanta eco ovunque a livello nazionale. Devo dire che Abruzzo dal Vivo, il festival che appunto ha organizzato e ha portato avanti questo tipo di evento in natura e in sicurezza ha centrato lo scopo cioè quello di dare visibilità dei territori duramente colpiti da sisma, da pandemia, da nevicate eccezionali e dargli visibilità a livello extra regionale è un obiettivo raggiunto e Campotosto è diventata meta di tanti appassionati di musica soft, di musica in natura anche quest'anno.